Vi parlo dell'uomo numero di Rizza Psicosomatica, dedicato a un tema importantissimo in questi giorni, prendersi cura di sé, proteggere la nostra psiche. Anche in questo momento difficile, dentro di noi bisogna ricordarsi che c'è una stanza della nostra psiche che ha capacità di germogliare, di dirigerci. Per questo motivo abbiamo messo in copertina un tronco da cui nascono dei germogli, dei fiori. E abbiamo parlato a lungo anche del far rifiorire il cervello. Quali sono le regole per far rifiorire il cervello? Come si fa? Come si fa a prendersi cura di sé? Su l'uomo di questo mese parliamo tantissimo di questo. Una lettrice mi scrive C'è un lato di me che non mi piace. Sono troppo manipolatoria. Manipolo le persone. Per tutto il resto ho imparato a star bene, ma di questa cosa che io manipolo, che è più forte di me, io la voglio eliminare. Quando tu vuoi eliminare un lato di te che non ti piace, non ti stai prendendo cura di te. Non ti stai prendendo cura di te. stai andando nella stanza dove quello che tu chiami la parte debole, fragile, insicura, sbagliata, deve essere allontanata. E invece il perno della psicoterapia non è tanto andare d'accordo quanto vedere in quella parte che tu chiami sbagliata un'alleata, un'alleata sicura per il viaggio. Vedete, in questi giorni, dove noi stiamo ripartendo, noi possiamo fare due cose. O portarci tutti i pensieri di tristezza, di disagio, di ferite anche grandi che abbiamo subito, di lutti, avere in mente tutto il dolore che ci sovrasta. Ma contemporaneamente dobbiamo avere in mente, nel nostro immaginario, noi che esploriamo boschi, foreste, viaggi, stanze della nostra psiche, dove lì c'è l'energia per trovare soluzioni anche nei momenti difficili. Gli antichi crearono questo nome provvidenza per dire che c'è un'energia cosmica che provvede. Ecco, prendersi cura di sé e stimolare questa energia provvidenziale. Sì, è vero, è tutto difficile. Sì, è vero, c'è il problema dei soldi. Sì, è vero, le cose non vanno bene, ma io devo ricordarmi che in me, proprio in me, in Raffaele, in Giovanna, in Michele, c'è un'energia provvidenziale. Questo numero di rizza è dedicato proprio a come entrarci in contatto, come lasciarla lavorare e soprattutto a vedere in quelli che noi chiamiamo le cose che non ci piacciono, i demoni, vedere che in queste energie, in questi demoni, ci sono energie che per il nostro io sono disturbanti, perché non riusciamo a dominarle, a condurle, ma in realtà sono svolte. Quando questa signora impara ad accogliere il suo lato manipolatorio, potrà anche trovare la sua mentalità innocente, diretta, semplice, che va diretta al fine. Non bisogna mai dimenticare che il lato che non ci piace di noi serve per rinforzare quello inconscio che è di segno opposto. Così una signora scrive non sopporto che sono così bugiarda. E io le ho risposto si ricordi che la donna bugiarda nel lato opposto della psiche è la donna troppo leale, troppo sincera. Bisogna trattarsi come con presenza di opposti, aver cura di sé e aver cura proprio di questi opposti. E su questo numero di Rilza ne parliamo ampiamente, perché in questo momento noi abbiamo bisogno più che mai di trovare le nostre energie providenziali. Perché analizzando molte persone che sono uscite dalle crisi anche difficilissime in tutte, in tutte, per poter liberare questa energia che provvede a te ci sono dei modi di stare con se stessi che dobbiamo imparare. Buona lettura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.